Non mi starai tra giorno sull'estriscia via dei millen ti son passato sopra ai 180 all'ora è una frittata tua non è una frittata sì tua non è una frittata l'ho vista altro giorno andare a far la spesa ti son passato sopra ai 180 all'ora è una frittata tua non è una frittata sì tua non è una frittata tua nonna tua nonna tua non è una frittata 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 tua non è una frittata